non fa, non fa, non puoi, dai lei c'ha il coraggio di chiedere lì se può sgattare, no? perché hai messo te la voglia? ma facciamo uno sportello che pazzo se facciamo un filmato ogni giorno si vede come avanza il lavoro non so se, si riesce a fare qualcosa se la faccio mi sono scordati di mettere il simbolo a lato sta lì, non si vede però sta lì arrivo ce già vi faccio ciao 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 ciao